oggi vincerò cosa posso fare lo so prendi questo blaze potrei lasciare qui le pietre bello la distanza è troppo poca la aumenterò blaze salterà e colpirà il muro sei pronto zag? certo allora seguimi ai vostri posti pronti partenza via wow che pista difficile che strano ostacolo bello aspettami blaze wow yahoo un albero bene non me l'aspettavo aiutami crusher arrangiati non ho tempo qualcuno mi aiuti ultimo giro aiutami blaze aiutami oh ma come sei arrivato qui? non avevo visto l'albero e resisti ti spingo io guarda crusher è ribaltato la aiutatemi aiutatemi ragazzi ti sistemeremo noi andiamo dal meccanico a controllare se è tutto a posto ok interessante vieni qui ehehehe falsolletico blaze da dove pensi che vengano le pietre e l'albero? e il trampolino era molto grande mi dispiace è stata colpa mia volevo solo vincere tu 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 ti sei teso una trappola da solo ehehehe eh non lo farò più ok andiamo ad allenarci